Prego, puoi cominciare. Buongiorno a tutti, sono Faina Laura, responsabile del legislativo della regione Piemonte. Approfitto e vi tolgo soltanto qualche secondo all'ultimo webinar programmato per ringraziare il Formez, gli ottimi relatori e tutti i partecipanti per gli stimoli, i suggerimenti ricevuti, perché direi che abbiamo potuto dare insieme a voi una dimostrazione che lavorare insieme funziona in un'ottica proprio di collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. Anche a nome dell'assessore Marrone volevamo dirvi che non finiamo qui, ma stiamo lavorando per porre in essere tutta una serie di iniziative per continuare a supportare i responsabili degli sportelli unici, anche rispetto ad una gestione del procedimento unico più efficace, spedita e coordinata. Lavoriamo in un contesto di agenda semplificazione anche con la funzione pubblica. Una delle priorità dell'azione dell'agenda semplificazione 2022-2026 è proprio la gestione coordinata degli sportelli unici in un'ottica anche di digitalizzazione delle procedure e quindi di implementare quelle che sono le semplificazioni dei vari procedimenti che passano attraverso questo importante strumento. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, buongiorno, con Ina che ha promosso insieme ovviamente agli altri uffici della regione e all'assessore questa iniziativa. per adesso è il nostro ultimo incontro, quindi la mia presentazione sarà ancora più veloce, non riesco a vedere per qualche motivo come far andare avanti le slide, non fa niente. vi ricordo, ecco qua, che questo è il progetto della regione Piemonte, in particolare per i responsabili degli sportelli unici. Abbiamo realizzato 16 webinar sulle tematiche di maggiore interesse degli sportelli unici, i primi un po' più di carattere generale, gli altri su materie più specifiche. e abbiamo, ecco, qui c'è un primo dato riepilogativo su quante sono state le presenze, su quanti le caratteristiche dei partecipanti, abbiamo avuto anche una discreta partecipazione di quelli che vengono chiamati gli stakeholder, cioè in particolare le associazioni di impresa e i professionisti degli ordini professionali del territorio piemontese. Il gradimento sembra sia stato particolarmente elevato e abbiamo avuto anche un discreto numero, per ad oggi ci sono 5739 visualizzazioni sul nostro canale YouTube, dove sapete sono pubblicati tutte le registrazioni dei nostri incontri. Vi ricordo che qui, oltre a questo sito, a questo indirizzo di eventi PA, ci sono tutte le registrazioni e ci sono anche le slide, ci sono le risposte che sono state poste ai partecipanti, sono state le risposte scritte ad alcuni quesiti posti dai partecipanti durante i webinar ai quali non era stato possibile rispondere nel corso del webinar stesso. Oggi parliamo del procedimento amministrativo per la somministrazione di alimenti e bevande, scusate, ero rimasto agli impianti, e queste sono le principali tematiche che saranno trattate, quindi dalla disciplina, alle diverse tipologie di esercizio, ai requisiti e alle procedure per l'acquisizione del titolo abitativo. Il relatore di oggi, che poi risponderà nell'ultima mezz'ora alle domande che potete porre in chat, è Riccardo Roccasalba. Vi ricordo quindi di fare le domande che ritenete più opportune o comunque qualsiasi dubbio potete porre le vostre domande nella chat dedicata. A questo indirizzo troverete di nuovo la registrazione, le slide e le risposte alle domande. E quindi auguro a tutti un buon webinar e arrivederci, diciamo, spero molto presto. Adesso provo a condividere la condivisioni recenti Roccasalba ed ecco a voi la presentazione di Riccardo Roccasalba. Grazie a tutti. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Allora, in quest'ultimo incontro parleremo appunto della materia sicuramente complessa e importante degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Allora, cominciamo subito a trattare, a elencare, più che altro sommariamente la normativa, sia nazionale che regionale. Naturalmente, in un caso e nell'altro, non ho inserito tutte le norme, che sono tantissime, né di rango nazionale né di rango regionale, ho messo soltanto le principali. Quindi sicuramente abbiamo, nella parte ancora applicabile, in quella che sopravvive, diciamo dopo gli ultimi interventi nazionali e regionali, la legge 287 del 91, che in particolare prevedeva quattro tipologie, no? di esercizi di somministrazione, cosa che poi in molte regioni, come in Piemonte, è stata superata, attraverso la previsione della tipologia unica di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il decreto ministeriale 564 del 92, che prevede i criteri di sorvegliabilità dei locali, quindi, che poi vedremo, approfondiremo più avanti, la sorvegliabilità esterna e la sorvegliabilità interna, che trae origine da un'altra norma del regolamento di attuazione del TULPS, che poi appunto tratteremo tra un poco. Il regolamento 852, naturalmente del 2004, quello che prevede, che ha sostituito la precedente autorizzazione alimentare con la nuova procedura di notifica sanitaria, che è sostanzialmente una scia in campo igienico-sanitaria, Poi, molto importante, il decreto legislativo 59 del 2010, in particolare gli articoli 64 e 71. L'articolo 64 è quello che in qualche modo ha liberalizzato la materia della somministrazione di alimenti e bevande, introducendo, almeno nelle aree non di pregio delle individuate dai comuni, il titolo del regime abilitativo della scia, quindi della segnalazione certificata di inizio attività, e poi l'articolo 71, che prevede nei primi cinque commi i requisiti soggettivi morali, che riguardano la somministrazione nel caso che oggi ci occupa, e poi nei commi 6 e 6 bis i requisiti, il comma 6 in particolare, i requisiti professionali. E poi ho citato infine il DPR 227 del 2011, perché c'è un articolo, in particolare l'articolo 4, che riguarda la semplificazione dal punto di vista degli adempimenti connessi all'impatto acustico per alcune tipologie di esercizi, tra cui le somministrazioni. Per la normativa regionale, insomma, tra le tante ho inserito soltanto queste, quindi in particolare la legge regionale 38 del 2006, come modificata da ultimo con la legge regionale 25 del 2021, che disciplina in via generale l'esercizio dell'attività, insomma, in asserzione di alimenti e bevande, e poi l'importante delibera di giunta regionale del febbraio 2010, la 13.268, che è stata in parte rettificata da una successiva delibera del primo marzo 2010, quindi di poche settimane dopo, ma soltanto per meri errori di calcolo delle tabelle relative ai posti parcheggio. Ecco, la DGR 13.268, detta indirizzi per la predisposizione di criteri per l'insediamento dell'attività, e stabilisce in particolare, allora vedremo più avanti, gli articoli 8, 9, 10 e anche 11, degli aspetti, dei passaggi importanti, dei parametri che richiedente o il segnalante, l'insediamento dell'attività di somministrazione, deve dimostrare al comune, quindi come compatibilità del proprio esercizio, rispetto a taluni parametri. Andiamo avanti, e poi vedremo tutto quanto più avanti. Cominciamo quindi, in particolare, con quello che è l'ambito di applicazione della legge, della legge, quindi sicuramente parliamo di somministrazione al pubblico, quindi la legge si applica alla somministrazione al pubblico e alla somministrazione anche di esercizi non aperti al pubblico, tra cui le avvenze aziendali, gli spacci, e poi la somministrazione svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore. Ecco, su questo ultimo aspetto di somministrazione accenderemo un piccolo focus, con riferimento, la tematica sempre molto interessante e dibattuta del catering, sottolineando poi giusto qualche piccola modifica, qualche piccola differenza rispetto all'attività del banketing con cui spesso si confonde. Non si applicano invece le norme della legge regionale 38 del 2006 alla somministrazione in circoli privati per la quale si fa rimando quasi integralmente al DPR 235 del 2001, fatto salvo diciamo l'apparato sanzionatorio perché lì per le sanzioni anche per le somministrazioni in circoli private si applica l'articolo 21 della legge regionale. Sono esclusi invece dal campo di applicazione della legge le somministrazioni in agriturismi e in strutture di ospitalità rurale familiare nelle strutture recettive di carattere alberghiero ed extraalberghiero e quant'altro nonché quelle poste in essere dai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica. Quindi questi sono i campi in cui non si applica la legge regionale. Cominciamo allora con un aspetto molto importante che è quello delle definizioni. Quindi cominciamo a parlare appunto di che cos'è la somministrazione nel pubblico di alimenti e bevande. Sembra un concetto sempre molto facile e banale da spiegare ma poi vediamo che non sempre è così. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano con apposito servizio assistito i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area attigua aperta al pubblico attrezzata quali possono essere appunto tipicamente i deor o le terrazze. Ho sottolineato con apposito servizio assistito perché avremo anche un paio di slide che trattano della questione e vedremo che appunto una recente sentenza del Consiglio di Stato nel 2019 facendo seguito a una pronuncia dell'autorità garante per la concorrenza del mercato ha definitivamente posto fine alla questione di quali siano effettivamente i tratti distintivi tra la somministrazione e la vendita di generi alimentari. Ad ogni modo oggi questa è la definizione corretta quindi senza considerare l'altezza di tavoli di sedie l'abbinamento dell'altezza di sedie e tavolini come aveva in precedenza affermato il Mise e quant'altro quindi senza proprio considerare il fatto che le stoviglie siano a perdere o di ferro eccetera eccetera quindi questo è importante quindi la vera connotazione che contraddistingue la somministrazione è sicuramente il servizio assistito ma più avanti ci arriveremo. la superficie di somministrazione invece come come delineata dalla legge regionale 38 è appunto l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa l'area occupata da banchi da casse da scaffalature da redi varie eccetera ma anche la porzione di suolo sia coperta che scoperta posta all'esterno degli esercizi di somministrazione che è attrezzata e ben delimitata e che naturalmente deve essere funzionalmente connessa all'esercizio i cosiddetti de or cioè la parte esterna della parte esterna dell'esercizio di somministrazione allora non è invece non fa parte della superficie di somministrazione l'area destinata ai magazzini alle cucine ai depositi ai locali di lavorazione uffici servizi igienici sia per il personale che per la clientela gli spogliatoi eccetera continua la legge regionale dicendo che ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante delle pareti continue deve essere separato distinto e in nessun modo collegato ad un altro esercizio adibito sempre a somministrazione comprensivo delle aree esterne coperte scoperte variamente delimitate quindi questo è appunto la definizione di esercizio di somministrazione veniamo allora al focus a cui vi avevo accennato prima quindi fondamentalmente la distinzione tra la somministrazione e la vendita di generi alimentari come saprà chi di voi si occupa di questa materia già da qualche anno il MISE aveva nel corso degli anni con diverse risoluzioni sempre sostenuto che per quanto riguarda l'attività di vendita non potessero essere forniti arredi e suppellettili abbinabili che dessero luogo ad attività di somministrazione in particolare il MISE aveva detto appunto che potevano esservi sicuramente tavolini e sedie ma non dovevano mai essere in qualche modo abbinabili nel senso che non doveva essere consentito al cliente di sedersi sul gabbello e appoggiare la propria pietanza sul tavolino una cosa una ricostruzione un po' arzigocolata perché altrimenti si sarebbe dato luogo a somministrazione e non a vendita quindi un concetto un po' un po' particolare l'autorità per la garante per la concorrenza del mercato con una segnalazione del 2016 che come sapete non è vincolante ma comunque accende un faro sulla questione aveva rilevato che queste risoluzioni del Mise contrastavano in particolare con un decreto legge del 2006 il decreto legge del 223 vi ricordate una delle famose lenzuolate dell'allora ministro Bersani quindi le norme di semplificazione in materia di attività economiche che proprio con riferimento al consumo sul posto di alimenti e bevande tra l'attività di somministrazione e quella di vendita aveva individuato quale unica differenza soltanto la presenza o meno del servizio assistito perché infatti se ricordate il contenuto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 223 era previsto per la prima volta che anche gli esercizi di vicinato potessero avere delle mensole nella delle mensole all'interno del del proprio esercizio dove il cliente poteva prendere per esempio non so la pizzetta e andarsela a mangiare eventualmente anche sedendosi quindi non è che doveva stare necessariamente in piedi quello che appunto connotava già allora il servizio di somministrazione rispetto a un normale esercizio di vendita di genere alimentare era appunto la presenza nella somministrazione e l'assenza nel commercio alimentare del servizio assistito quindi del cameriere che fondamentalmente porta il porta l'ordinazione al cliente il consiglio di stato con una sentenza importante che in qualche modo ha posto fine alla questione con la sentenza 2280 del 2019 ha detto a chiare lettere quindi aderendo all'indirizzo dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato quindi all'antitrust che la disposizione degli arredi con abbinamento tra i tavoli e le sedie ma anche la presenza di tavoli preparati con stoviglie tovaglie e quant'altro occorre per il consumo sul posto sono elementi del tutto irrilevanti quindi non conta nulla e non forniscono elementi utili a connotare e distinguere l'attività di somministrazione da quella di consumo sul posto quindi non è importante capire anche ai fini di un accertamento fatto dalla polizia locale o da altri organi di vigilanza non è importante stabilire se le stoviglie sono di plastica piuttosto che di ferro eccetera se il tavolo e la sedia sono abbinabili o meno quello che è importante per capire se stiamo parlando di somministrazione o di vendita dei generi alimentari è che vi sia o meno il servizio a stizi due tavoli con un personale dipendente che svolga tale servizio quindi se c'è il cameriere che fa che porta l'ordinazione direttamente al cliente stiamo parlando stiamo parlando di somministrazione diversamente no quindi questa sentenza è importante del Consiglio di Stato che ha chiarito che ha chiarito la questione un'altra un'altra questione rilevante è quella che si riferisce alla somministrazione al domicilio del consumatore il cosiddetto quello che viene chiamato anche catering allora cioè l'organizzazione nel domicilio dello stesso e questo è importante il concetto di domicilio quindi l'organizzazione nel domicilio del consumatore del cliente di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolte però soltanto a lui al consumatore ai familiari e alle persone da lui invitate quindi non stiamo parlando di somministrazione al pubblico ma di somministrazione rivolta a una cerchia determinata di persone allora anche qua il Consiglio di Stato si è espresso però questa volta non con una sentenza ma con un parere dell'anno scorso con un parere il numero 1438 che è stato un parere reso al MISE quindi al Ministero dello Sviluppo Economico su una legge della Regione Veneto in particolare afferma al Consiglio di Stato che il catering si deve intendere effettuato presso il domicilio del committente quindi del consumatore anche nel caso in cui questi scelga un locale che sia nella disponibilità dell'impresa interpellata per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande cioè il caso era stato proprio questo che l'azienda fornitrice del servizio di catering aveva anche messo a disposizione del cliente e dei suoi familiari e delle persone da lui invitate un locale la polizia locale di un comune del Veronese del Trevigiano adesso non ricordo era andata lì e aveva elevato verbale insomma per esercizio abusivo dell'attività di somministrazione quindi ne era nata naturalmente una vertenza giudiziaria e nell'ambito di questa di questa di questa attività la Regione Veneto aveva chiesto al Mise un parere che era stato poi girato alle sezioni consultive del Consiglio di Stato quello che appunto ha detto il Consiglio di Stato quindi smentendo in qualche modo la ricostruzione fatta dagli organi di vigilanza di quella di quel comune era che appunto ben era possibile estendere il concetto di domicilio fino a considerare un qualunque luogo messo a disposizione del consumatore anche se quel luogo se quel locale era stato messo a disposizione dalla stessa impresa fornitrice del servizio di catering infatti la caratteristica peculiare e qualificante del catering è il fatto che la somministrazione venga erogata esclusivamente in favore di una collettività di persone individuate ex ante con l'obbligo dello svolgimento del servizio in luogo non aperto al pubblico quindi questo è importante quindi la collettività di persone servite deve essere individuata ex ante e il luogo non deve essere aperto al pubblico ma il committente può indicare come domicilio anche un locale messo a disposizione della stessa impresa che fornisce sicuramente il servizio di catering per quanto riguarda la somministrazione al domicilio del consumatore come sappiamo c'è questa differenza terminologica tra catering e banketing il catering viene considerata la semplice fornitura di pasti preparati nelle menze aziendali scolastiche negli enti pubblici eccetera il banketing prevede anche oltre a questo la fornitura di pasti a domicilio nel caso per eventi quali banchetti matrimoni fieri eccetera ma comprende anche la preparazione dei tavoli il servizio ai tavoli la fornitura delle attrezzature delle stoviglie dei tovagliati di posaterie e di quant'altro necessario all'erogazione del servizio e anche poi alla fine il riordino e la pulizia dei locali insomma quindi il riordino del servizio quindi questo invece questo è il banketing che si differenzia in quanto tale dal catering per quanto riguarda i requisiti soggettivi naturalmente la legge fa rimando ai requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 in particolare come dicevamo poc'anzi il abbiamo i primi 5 commi che si riferiscono ai requisiti soggettivi morali mentre l'articolo 6 e anche quello 6 bis si riferisce al requisito professionale quali sono i requisiti professionali quindi comma 6 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio la preparazione e la somministrazione istituito o riconosciuto dalle regioni la cosiddetta pratica professionale l'ho sintetizzata così poi chiaramente potete tranquillamente andarvi a leggere il comma 6 dell'articolo 71 e avere conseguito un diploma di scuola superiore o una laurea anche una laurea breve triennale o di un'altra scuola di indirizzo triennale almeno triennale purché nel corso di studi siano previste materie che siano attenenti al commercio alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti quindi su questo poi si è sviluppato tutto un florileggio di risoluzione del MISE che sulla base di interrogazioni varie prevenienti sia dai privati che dai comuni ha risposto su quali siano i vari corsi che il cui superamento consente appunto di essere di rispettare appunto di soddisfare il requisito professionale previsto dall'articolo 71 comma 6 sempre in merito al comma ai commi 6 e 6 bis vi segnalo alcune importanti modifiche introdotte nel 2012 dal direttore legislativo 147 in particolare è previsto che una volta nel comma 6 si era detto il requisito professionale serve ogni qual volta si svolge un'attività di somministrazione anche nei confronti di una cerchia determinata di persone oggi questa questo 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 inciso è stato espunto dal testo quindi questa cerchia determinata di persone non lo trovate più per cui quando si tratta di somministrazione svolta a una cerchia determinata non occorre più il requisito professionale e poi l'altro aspetto importante con il comma 6 bis è che dal 2012 anche le imprese anche le imprese individuali possono avvalersi di un possono avvalersi di un preposto che sia in possesso naturalmente dei requisiti soggettivi sia morali che professionali questo è importante perché prima c'era questo grosso problema se io un imprenditore individuale avevo soprattutto problemi dal punto di vista dei requisiti professionali dovevo per forza costituire una società e nominare un preposto oggi lo posso fare anche se sono se rimango imprenditore individuale in più la legge regionale 38 prevede che i titolari che esercitano l'attività o i preposti devono frequentare con cadenza triennale un corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene sanità e sicurezza quindi questo è un adempiamento ulteriore previsto dalla legge regionale 38 del 2006 allora per quanto riguarda le quattro tipologie di esercizi elencate dalla 287 la legge regionale 38 prevede invece un'unica come oggi fanno quasi tutte le regioni un'unica tipologia di attività e quindi si parla di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione mentre come sappiamo la legge 287 del 91 che in parte è ancora vigente prevede quattro tipologie A, B, C e D che sono rispettivamente la ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande quindi ristoranti trattorie tavole calde pizzerie birerie eccetera somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nonché latte dolciumi eccetera quindi bar i caffè la gelateria e pasticceria sono classiche somministrazioni che una volta si dicevano tipo B la tipo C invece riguarda qui è sbagliato insomma non è B e C in questa slide ma è C e D la C sarebbe gli esercizi di qui sopra in cui la somministrazione viene svolta congiuntamente ad un'attività di rattenimento e svago per esempio i punti terminali di somministrazione le buvette nelle sale da ballo nelle sale da gioco nei cinema nei locali notturni stabilimenti barneari e quant'altro e poi la D sarebbe gli esercizi di somministrazione di bevande in cui viene esclusa la somministrazione di bevande alcoliche oggi quindi che non esiste più una non esistono più quattro tipologie di somministrazione ma una sola quindi non c'è un ampliamento di tipologia di somministrazione per esempio se al ristorante aggiungo il bar ma quindi oggi come faccio a individuare che tipo di attività concretamente voglio in essere abbiamo due strumenti uno è sicuramente la notifica sanitaria perché lì nel modello di scia sanitaria individuo esattamente la tipologia di attività di somministrazione che vado a esercitare e poi c'è anche un altro adempimento previsto dalla legge regionale che è la comunicazione che il titolare deve fare al comune per quanto riguarda l'attività o le attività che sono poi concretamente effettivamente svolte nei limiti chiaramente come sopra delle norme igienico-sanitarie quindi con questi due adempimenti insomma siamo in grado sempre di sapere che tipo di tipologia di somministrazione vado a porre essere per quanto riguarda la sorvegliabilità questo è un altro aspetto importante un tratto distintivo che riguarda i soli che riguarda i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimane inalterato appunto il criterio della sorvegliabilità per quanto riguarda il DM 564 del 92 che soltanto per i criteri di sorvegliabilità interno è stato modificato da un altro DM il 534 del 94 e chiaramente questo criterio deve essere accertato non soltanto in caso di nuovo esercizio ma anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali o di modifiche strutturali dei locali qual è l'origine di questo DM è un articolo del regolamento di esecuzione del TULPS il 153 quindi l'articolo 153 del reggio decreto 635 del 40 chiariamo l'articolo 153 si riferisce ai requisiti di sorvegliabilità che devono avere tutti i pubblici esercizi quindi tutti quelli previsti autorizzati o comunque oggi vanno in scia ai sensi dell'articolo 86 TULPS quindi parliamo non soltanto di somministrazione ma parliamo anche di alberghi di strutture ricettive di stabilimenti balneari di sale giochi e quant'altro quindi sicuramente sono tutti esercizi che devono obbedire ai dettami dell'articolo 153 perché è un criterio generale specificamente invece per una particolare categoria di pubblici esercizi quali sono appunto le somministrazioni di alimenti e bevande occorre invece verificarne la sorvegliabilità quindi a sensi di questo DM 564 del 92 come modificato nel 94 abbiamo quindi come dicevamo prima due tipi di sorvegliabilità una sorvegliabilità esterna e un'interna la sorvegliabilità esterna si riferisce ai locali e alle aree che sono adibite anche temporaneamente o per l'attività stagionale devono avere caratteristiche tali da non impedire la sorvegliabilità di avere accesso di uscite e soprattutto devono avere un accesso diretto alla strada questo è un aspetto molto importante la sorvegliabilità poi deve essere anche interna quindi le suddivisioni interne dei locali tramezzi le pareti i divisori quant'altro non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentono un accesso immediato come capite questi sono aspetti volti a verificare volti a verificare appunto il facile accesso da parte della pubblica sicurezza e poi le caratteristiche delle vie d'accesso del locale non deve esservi nessun impedimento all'ingresso all'uscita del locale durante l'orario di apertura ora da questi pochi aspetti capite bene che la sorvegliabilità non è certamente un qualcosa non è sicuramente un qualcosa che si riferisce a una tipologia di somministrazione di alimenti e bevande che oggi è molto in voga quale è l'home restaurant infatti da questo punto di vista abbiamo avuto diverse pronunce sia del Mise sia del Consiglio di Stato dove naturalmente si è preso atto del fatto che esiste anche la modulistica sia per la somministrazione che per la notifica sanitaria dove si parla di si parla di home restaurant sicuramente il privato deve soggiacere alle verifiche previste in casa propria ma non gli si possono chiedere non gli si può chiedere di come dire di soddisfare i requisiti di sorvegliabilità soprattutto esterna previsti tipicamente per locali che hanno una destinazione commerciale che sono dei locali fronte strada quindi è chiaro fatto salvo il fatto che le residenze non possono avere una sorvegliabilità esterna in talunni casi neanche interna e per il fatto che non possono avere una destinazione d'uso commerciale per il resto appunto soggiacciono alle altre regole previste per i pubblici esercizi allora altri requisiti che devono avere le somministrazioni di alimenti e bevande sicuramente il rispetto delle norme in materia edilizia urbanistica e di destinazione ed uso dei locali rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro quindi sicuramente abbiamo detto il regolamento 852 del 2004 per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari rispetto del decreto 81 del 2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro e quant'altro naturalmente è possibile per le somministrazioni vendere per asporto i prodotti che possono somministrare quindi non è consentito soltanto il consumo sul posto con il servizio assistito di somministrazione ma anche la vendita per asporto chiaramente allora veniamo adesso ad un aspetto molto importante che che riguarda i limiti diciamo così all'insediamento dei esercizi di somministrazione e cioè in particolare i limiti previsti dall'articolo 64 combattere l'articolo 64 del decreto 59 attuativo della direttiva Volkestein la direttiva servizi 123 del 2006 appunto attuata in Italia con il decreto 59 del 2010 aveva da un lato previsto la liberalizzazione tranne che nelle aree di pregio dove è ancora rimasta la possibilità di assoggettare le somministrazioni ad autorizzazione ma parallelamente ha previsto la possibilità per i comuni di porre in estero una programmazione di carattere qualitativo quindi rigidamente non quantitativo chi di voi si occupa di somministrazioni da una quindicina d'anni almeno sa che fino al 2010 era normale perché lo prevedeva una norma del 91 e poi anche del 96 la programmazione quantitativa dove appunto lo Stato assorgeva interprete ad arbitro dei bisogni delle famiglie quindi si stabiliva che in ciascuna parte del territorio comunale centro storico zone di espansione periferie eccetera si potessero localizzare non più di tot somministrazioni di alimenti non più di tot somministrazioni di bevande eccetera eccetera oggi questo non è più possibile perché in contrasto proprio con i criteri fondanti del mercato unico della libera concorrenza all'interno del mercato unico però il legislatore invita a porre in essere una nuova e diversa diciamo così più a valore aggiunto programmazione che appunto non è più quantitativa ma è qualitativa che vuol dire programmazione qualitativa vuol dire che è possibile prevedere delle limitazioni o addirittura dei divieti perché no all'apertura di nuove strutture di nuovi esercizi ma soltanto perché io come comune sentite le associazioni sentito anche eventualmente con una procedura di concertazione che comprende anche la sovrintendenza e la regione questo non lo dice il 59-2010 me lo prevede il dereto scia 2 il dereto 222 del 2016 quindi posso posso inibire posso limitare o addirittura inibire vietare l'insediamento di nuove strutture ma lo devo fare perché sto dando spazio ad altri criteri di pari rango costituzionale cioè nel momento in cui limito il diritto di libertà di impresa della libera iniziativa economica quella prevista dall'articolo 41 della costituzione lo sto facendo perché sto dando enfasi e spazio ad altri principi di pari rango costituzionale quali sono questi principi sono i principi di sostenibilità ambientale sociale di viabilità eccetera eccetera che rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo molto negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici eccetera eccetera e poi senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità tutto questo che sembrano principi astrusi astratti poi li ritroviamo declinati invece negli articoli 8 e seguenti della famosa delibera della giunta regionale Piemonte del 2010 che trae spunto proprio dall'articolo 8 della legge regionale 38 quindi c'è tutta una serie poi di di valutazioni che il coriore che si vuole insediare deve dimostrare al comune appunto in merito a questi aspetti ma questo lo vedremo lo vedremo più avanti resta comunque ferma la finalità di tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico storico architettonico ambientale ma come vedete sono vietati questo lo prevede l'articolo 64 sono vietati criteri quantitativi criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico sulla prova di una domanda di mercato cioè non è possibile più come si faceva fino al 2010 stabilire che in zona nella zona A era possibile insediare soltanto tre esercizi somministrazione di bevande nella zona B soltanto cinque di alimenti eccetera eccetera quindi la programmazione oggi deve essere qualitativa quindi basata su valutazioni di altri interessi di pari rango costituzionale non di carattere quantitativi allora tornando quindi ai dettami della legge sia nazionale che regionale qual è il regime abilitativo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sicuramente per quanto riguarda la regola base è che oggi c'è la liberalizzazione e quindi questi esercizi sono soggetti a scia unica quindi quali eventi l'apertura il trasferimento di sede dell'ampliamento di superficie di questi esercizi sono soggetti a scia unica quindi parliamo dell'articolo 19 bis della invece le zone soggette a tutela come dicevamo prima questa è una possibilità che dava lo stesso articolo 64,3 quindi gli stessi eventi di apertura trasferimento di sede ampliamento di superficie nonché anche il trasferimento di attività di somministrazione di una sede non sottoposta a tutela a una zona tutelata oppure ancora il trasferimento di un esercizio all'interno della stessa zona tutelata sono tutti eventi soggetti ad autorizzazione tra l'altro l'autorizzazione che è soggetta a silenzio assenso infatti prevede la vostra normativa regionale che i comuni nella loro programmazione devono stabilire un termine comunque non superiore a 60 giorni nei propri regolamenti comunali dei corsi il quale davanti ovviamente in presenza di una documentazione formalmente completa ed esaustiva si forma appunto il silenzio assenso laddove non sia stato ancora autorizzato l'esercizio perfetto andiamo avanti ok la normativa relativa appunto alla somministrazione di alimenti e bevande prevede poi la somministrazione temporanea che è quella svolta in occasione di sagre fiere manifestazioni a carattere religioso culturale tradizionale eccetera in questo caso il regime abilitativo è sempre la scia unica parliamo di scia unica prima non l'ho detto parliamo dell'articolo 19 bis comma 2 della legge 241 del 90 perché si tratta della scia di somministrazione alla quale quindi la scia amministrativa diciamo così alla quale si accompagna la notifica sanitaria che è una scia in materia appunto igienico sanitaria quindi si parla di scia unica quindi per il privato cambia non cambia nulla dal punto di vista della tempistica per quanto riguarda il titolo abilitativo perché essendo una scia unica l'efficacia abilitativa è sempre immediata quindi dal momento in cui si presenta la pratica al SUAP è possibile appunto porre in essere avviare l'attività non occorre in questo caso il possesso del requisito professionale ma vanno rispettate le norme in materia edilizia urbanistica tranne quelle relative alla destinazione d'uso dei locali le norme in materia igienico sanitaria le condizioni di sicurezza e prevenzione di incendi e la sorvegliabilità dei locali queste invece vanno appunto sempre considerate anche in materia di somministrazione temporanea abbiamo poi la somministrazione stagionale che è quella svolta per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni nell'arco solare oppure che si svolge a cavallo di due anni quindi può comprendere anche una parte dell'anno successivo a quello in cui il periodo inizio quindi posso iniziare anche il 30 novembre e finire il 15 aprile per esempio è comunque un'attività stagionale che abbraccia due anni il regime abilitativo in questo caso è lo stesso previsto per la corrispondente attività permanente quindi se andrò a svolgere una somministrazione stagionale in area tutelata in area di pregio il regime abilitativo sarà l'autorizzazione soggetta a silenzio assenso negli altri casi sarà una scia unica si applicano in ogni caso tutte le disposizioni previste per l'attività di somministrazione permanente quindi tutto il rispetto della normativa compreso in questo caso il possesso dei requisiti soggettivi professionali in capo al titolare o al suo preposto per quanto riguarda invece l'evento del subingresso come prevede la tabella come prevede la legge regionale ma anche la stessa tabella A allegata al decreto legislativo 222 2016 il decreto scia 2 in questo caso il titolo abilitativo è la scia unica si parla di scia unica ma ricordandoci che il titolo abilitativo dal punto di vista strettamente amministrativo è la comunicazione quindi nella modulistica regionale troverete non la scia ma la comunicazione per subingresso si parla di scia unica perché naturalmente alla comunicazione deve essere sempre accompagnata la notifica sanitaria perciò si parla di scia unica che cosa va comprovato e quindi cosa va va legato o comunque prodotto all'interno della modulistica di subingresso sicuramente l'effettivo trasferimento dell'attività quindi la cessione o il trasferimento temporaneo il fitto d'azienda o diremmo d'azienda in questo caso da temporaneo e poi naturalmente il possesso in capo al subentrante dei requisiti sia morali che professionali naturalmente può esservi anche il caso del subingresso mortis causa in questo caso il subentrante l'erede tipicamente naturalmente fermo restando il fatto che deve possedere da subito i requisiti morali se non ha i requisiti professionali può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa però deve provvedere ad acquisire deve provvedere ad acquisire il come dire i requisiti professionali nel termine di 18 mesi dall'apertura della successione quindi dalla data della morte del titolare a meno che non voglia avvalersi anche in questo caso di un preposto perché questo può essere uno dei casi in cui può essere utile avvalersi di un preposto allora vediamo adesso dunque veniamo adesso alla la questione degli orari di apertura e chiusura allora questi naturalmente sono come prevede il come prevede il dell'articolo 31 del del decreto 211 del 201 del 2011 il decreto salva Italia se vi ricordate quello del governo Monti nel dicembre 2011 quando l'Italia stava per andare in default quello che prevedeva la liberalizzazione quindi oggi gli orari sono liberi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti tuttavia l'esercente ha alcuni obbligo alcuni riempimenti da effettuare con riferimento all'orario cioè deve comunicare sicuramente al comune l'orario prescelto ai turni di ferie e ne deve dare anche idonea pubblicità tramite l'esposizione di un cartello che deve essere ben visibile all'esterno dell'esercizio il comune può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione soltanto quando sono necessarie per salvaguardare l'interesse pubblico con particolare riferimento alla sicurezza pubblica così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono osservare giornate di riposo settimanale fatto salvo naturalmente l'obbligo di comunicarlo al pubblico proprio per evitare che qualcuno vada lì e trovi l'esercizio chiuso un aspetto importante che volevo segnalarvi per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura riguarda la possibilità per i comuni questo è un argomento ormai dibattutissimo da anni se non da decenni la possibilità per il comune di apporre in maniera valida che resista davanti alle impugnative dei privati delle limitazioni quindi all'orario dell'apertura delle somministrazioni da questo punto di vista lo strumento che sempre si utilizza è l'articolo è l'articolo 50 del del Tuel che cosa prevede l'articolo 50 del Tuel prevede il potere di ordinanza sindacale che in particolare ai fini nostri quello che ci interessa è il potere di ordinanza previsto da tre commi il comma 5 il comma 7 e il comma 7 bis che è stato introdotto con un dereto legge del 14 del 2017 il quale dereto legge del 14 del 2017 è importante perché ha introdotto un altro comma che non riguarda il potere di ordinanza ma forse ancora più importante che il comma 7 ter che vedremo tra un attimo allora primo potere di ordinanza classico quello previsto dal dal Tuel l'articolo 50 comma 5 sono le ordinanze contingibili e urgenti quindi il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti se vi è urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare con particolare riferimento alle esigenze di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche quindi come vedete questo è proprio il fondamento del potere di ordinanza sindacale che può contrastare alcuni fenomeni degenerativi connessi alla cosiddetta malamovida ma se ci pensiamo bene stiamo parlando sempre di un rimedio temporaneo di un rimedio che non è strutturale perché parliamo di ordinanze contingibili e urgenti cioè ordinanze che traggono la loro ragione destra da situazioni contingenti per l'appunto e urgenti per le quali è necessario e urgente provvedere non è possibile immaginare di regolare in maniera strutturale in maniera permanente l'attività attraverso questo tipo di ordinanza ecco perché spesso lì è la socconvenza davanti ai giudici amministrativi dei comuni davanti ai ricorsi degli esercenti proprio perché non è l'esigenza che sbagliate lo strumento che viene adottato che non è quello rispondente alle finalità della norma da questo punto di vista un ausilio importantissimo ci è dato dal comma 7 ter che vi ho sottolineato vi ho evidenziato in rosso e cioè introdotto nel 2017 che dice che in queste materie quindi nella materia legata all'esigenza di superare situazioni di incuria e degrado del territorio quando c'è pregiudizio del decoro della vivibilità urbana quando occorre tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti quindi stiamo parlando chiaramente dell'esigenza di contrastare i fenomeni più deteriori della movida i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del TUEL quindi un regolamento che chiaramente ai sensi dell'articolo 32 del TUEL verrà approvato dal consiglio comunale e quindi in questo modo posso come comune sicuramente adottare posso adottare posso adottare sicuramente una strategia di più ampio respiro che non sia soltanto legata alla contengibilità e all'urgenza l'altro comma il comma 7 che prevede che il sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici per armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti quindi qua è un'altra questione è sempre un potere di ordinanza dove il sindaco però può coordinare quindi qua non è legata tanto alla come dire alla mala movita ma è un'esigenza più ampia per armonizzare tutti i servizi compresi i pubblici esercizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e poi c'è il comma 7 bis del Tuel che è stato modificato da ultimo con il decreto sicurezza quello del ricordate di novembre dicembre del 2018 in cui si consente al sindaco con ordinanza che in questo caso non è contingibile urgente quindi non trae l'origine la sua necessità la sua legittimità da una situazione contingente urgente ma comunque non è un rimedio permanente perché non può andare per un periodo superiore a 30 giorni comunque il sindaco con questo tipo di ordinanza ripeto non contingibile urgente ma che comunque non può avere vigenza superiore a 30 giorni può limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna e può anche limitare l'orario di vendita di generi alimentari pronti per il consumo quindi comprese le bibite naturalmente quindi questo è una è un'innovazione importante è un asilo importante che si dà ai comuni perché è possibile approntare un'ordinanza anche di carattere non contingibile urgente ma siamo sempre lì comunque non è neanche questo lo strumento per superare in maniera definitiva un problema per quello ripeto c'è il comma 7 ter che prevede la possibilità per i comuni di risolvere determinate problematiche con lo strumento regolamentare che appunto è l'unico che può dare un respiro un po' più ampio alla risoluzione di alcune questioni questo articolo 7 bis la finalità è quella di soddisfare anche qui le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti dell'ambiente del patrimonio culturale nelle aree di pregio quelle le aree interessate dal flusso rilevante di persone eccetera quali sono le sanzioni previste da questo comma 7 bis per la prima inosservanza abbiamo una sanzione amministrativa che va da 500 a 5000 euro quindi naturalmente applicando la legge 689 dell'81 come sapete insomma con i criteri lì previsti il doppio del minimo un terzo del massimo e poi invece in caso di seconda dell'osservanza nell'arco di un anno c'è la sospensione dell'attività da parte del questore la legge regionale poi tratta anche la questione interessante delle attività accessorie ai pubblici esercizi e da questo punto di vista opportunamente diciamo riprende quello che è l'innovazione normativa del 2012 sapete che fino al 2012 quando volevo porre in essere uno spettacolino all'interno del mio locale dovevo comunque in ogni caso chiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo come piccolo intrattenimento ai sensi dell'articolo 69 tulps poi se vi erano i presupposti eventualmente anche in funzione dell'afflusso e quant'altro dovevo chiedere anche il parere della commissione di vigilanza quello dell'articolo 80 tulps ora invece nel 2012 tutto ciò è stato liberalizzato ma soltanto in presenza di determinate condizioni e infatti la regione Piemonte appunto riprende questa innovazione e dice i titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione quindi la scia o l'autorizzazione abilitano anche all'installazione all'uso degli apparecchi radio televisivi di dispositivi e impianti per la diffusione delle immagini e anche all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo nei locali dove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande e queste sono le tre condizioni non deve essere imposto il pagamento di un biglietto di ingresso nell'aumento del prezzo delle consumazioni il locale non deve essere trasformato in sala di intrattenimento e vengano rispettate le materie le vigenti disposizioni in materia di sicurezza prevenzione incendi e inquinamento acustico quindi questo cosa vuol dire vuol dire che se si tratta di un intrattenimento di un di un piccolo intrattenimento musicale dove c'è un sottofondo ma c'è anche oppure può esserci anche una musica senza senza ballo in presenza di questi tre aspetti non devo fare assolutamente non devo fare assolutamente nulla laddove invece fino al 2012 ripeto occorreva munirsi della speciale autorizzazione prevista dall'articolo 69 tulips veniamo infine ai criteri ai criteri importanti stringenti stabiliti dall'articolo 8 della legge regionale 38 del 2006 per quanto riguarda gli indirizzi per l'insediamento delle attività e quindi per la predisposizione da parte dei comuni dei criteri per l'insediamento dell'attività allora i comuni dovevano adottare questi criteri la legge regionale diceva entro 12 mesi che poi diventano 18 secondo la DGR 13.268 del 2010 sentito il parere delle organizzazioni più rappresentative sono esclusi dalla programmazione a determinate attività che sono in particolare quelle succedane accessori ad altre attività principali più la somministrazione temporanea queste sono soggette soltanto alla scia unica e poi come dicevo prima vi è stata una rettifica qualche settimana dopo il primo marzo con una nuova DGR per un mero errore materiale un refuso nelle tabelle di calcolo del fabbisogno dei posti marcheggio comunque questa 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 DGR originaria quella del 13.268 dell'8 febbraio contiene gli indirizzi generali e i criteri regionali per l'insediamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande allora quali sono questi criteri che vengono elencati dall'articolo 3 della delibera quindi che contiene gli indirizzi generali intanto gli esercizi di somministrazione nonostante il fatto che siano ricompresi in un'unica tipologia quindi non c'è più A, B, C e D come abbiamo detto prima per salvaguardare il sistema della concorrenza devono sviluppare caratteristiche differenti per quanto concerne sia l'offerta di prodotti per quanto riguarda il servizio offerto il livello dei prezzi praticati l'uso dello spazio privato e pubblico e le differenti preferenze di localizzazione tramite l'assetto territoriale quindi attraverso regolamentazioni che devono porre in essere i comuni sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema inoltre la regione appunto sensibilizza porre in essere varie forme di incentivazioni che non sono soltanto quelle economiche ma possono essere anche di carattere fiscale o di altro tipo burocratica eccetera con cui facilitare il mantenimento del servizio a favore di consumatori deboli marginali o poco mobili eccetera e inoltre enfatizza la regione sempre in questa delibera occorre assicurare il raccordo tra gli indirizzi regionali e la pianificazione urbanistica locale quindi occorre soprattutto che la pianificazione urbanistica quindi i piani attuativi i piani regolatori i piani attuativi tengano conto di questi indirizzi regionali quali sono le zone attuali e quelle potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione secondo la regione preferibilmente sono gli addensamenti commerciali sia urbani che extraurbani e le localizzazioni commerciali urbane contraddistinte dalla sigla L1 e urbano-periferiche contraddistinte dalla sigla L2 inoltre per facilitare diciamo così l'insediamento nelle realtà che sono a più o a maggior rischio di certificazione di servizi ai cittadini si prevede che per quelle in cui per i comuni con meno di 3.000 abitanti o per le frazioni o parti omogenee di un territorio comunale che ha meno di 3.000 abitanti oppure per quartieri di edilizia residenziali che non hanno grossi servizi hanno marginalità economica è possibile appunto questi sono considerati e queste sono considerate zone preferenziali per la localizzazione quindi o che hanno dove non vi siano altri esercizi alimentari o di somministrazione in un raggio di 500 metri quindi sono tutte considerate zone preferenziali per la localizzazione di somministrazione di alimenti e bevande qual è la destinazione d'uso ammessa è la destinazione d'uso commercio al dettaglio sempre che naturalmente ricorda la normativa regionale siano soddisfatti poi di ulteriori requisiti di localizzazione previsti degli articoli da 7 a 11 e poi le altre norme nazionali e regionali vigenti ancora vediamo per quanto riguarda un altro aspetto l'impatto con i beni culturali ambientali e paesaggistici i comuni nello stabilire i criteri per l'insediamento delle somministrazioni di alimenti e bevande devono individuare tra i beni culturali e ambientali anche determinati esercizi di somministrazione che hanno un particolare valore storico-artistico che sono soprattutto ubicati negli addensamenti commerciali quelli più centrali quindi a 1 a 2 a 3 proprio per evitarne lo snaturamento e l'espulsione quindi per fare in modo appunto che non ci sia il fenomeno che si vede un po' dovunque di bar di ristoranti storici che sono costretti che sono costretti a chiudere inoltre i comuni nei propri criteri nei propri regolamenti stabiliscono anche norme che possono limitare come dicevamo prima l'esercizio dell'attività di somministrazione anche non assistita presso laddove appunto siamo in prossimità di beni culturali ambientali e paesaggistici ovviamente dandone adeguata e pregna motivazione questo sempre per evitare poi una inevitabile soccombenza al tar allora per quanto riguarda invece il fabbisogno dei parcheggi allora dobbiamo dire che il fabbisogno totale di posti a parcheggio di superficie che va computata sempre in relazione alla cosiddetta superficie di somministrazione come l'abbiamo prima definita questo fabbisogno è obbligatorio non è derogabile fatte salve fatte salve alcune eccezioni che vediamo subito sotto in particolare per gli esercizi commerciali o meglio di somministrazione che si trovano negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane a 1 a 2 a 3 a 4 e delle 1 questo fabbisogno è monetizzabile perché è monetizzabile perché naturalmente si parte dal presupposto che nelle aree più centrali più densamente popolate affollate a maggior traffico è più difficile reperire parcheggi evidentemente però il meccanismo di monetizzazione i criteri di calcolo eccetera devono essere individuati negli strumenti urbanistici o generali o esecutivi attuativi inoltre non è richiesto l'altra eccezione non è richiesto il soddisfacimento dei posti di parcheggio negli esercizi di somministrazione che si trovano nelle realtà minori a rischio desertificazione quindi come l'abbiamo individuato prima comuni o porzioni di comuni che hanno una popolazione residente inferiore a 3000 abitanti quartieri residenziali privi di particolari servizi a rischio marginalità eccetera eccetera così come i comuni nei propri criteri devono individuare anche regolamentare le fasce orarie di carico e scarico delle merci anche vari esercizi di somministrazione negli addensamenti a 1 e a 2 cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico quindi tipicamente sono primissima mattina o eventualmente in qualche caso nella pausa pranzo e inoltre quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 metri quadri o l'ampliamento di una preesistente superficie di somministrazione è superiore a 80 metri quadri il titolo abilitativo che sia la scia o la domanda di autorizzazione è subordinato anche a valutazione di impatto sulla viabilità tranne che però nei casi degli addensamenti commerciali a 1 e a 2 dove appunto è una situazione dove già la viabilità evidentemente è considerata abbastanza critica e anche nella realtà minori a rischio di certificazione come abbiamo sopravvisto non è finita qui per quanto riguarda i titoli per quanto riguarda gli aspetti sempre territoriali e ambientali e paesaggistici i titoli abilitativi quindi sia la scia sia la domanda di autorizzazione sono soggette a verifiche per quanto riguarda gli aspetti ambientali paesaggistici e territoriale cosa vuol dire ambientali intanto uno studio quindi la scia o la domanda deve essere corredata da uno studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili per rendere l'insediamento compatibile studio naturalmente sottoscritto e asseverato da tecnico abilitato il primo fattore da considerare è il clima acustico come viene definito il clima acustico cioè la dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti previsti dalla norma non soltanto con riferimento ai macchinari e agli impianti rumorosi installati come prevede la legge quadro sull'inquinamento acustico che è la legge 447 del 95 e il piano di zonizzazione acustico comunale ma occorre tenere presente anche il rumore provocato dal traffico indotto dall'esercizio e il potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui ricettori sensibili che si ritrovano nelle vicinanze dell'esercizio ora io in questa slide ho messo nota bene perché naturalmente vi ricordo che l'articolo 4 del DPR 227 del 2011 che è il DPR che reca semplificazioni in materia ambientale in particolare l'articolo 4 sull'impatto acustico prevede che proprio che per alcuni esercizi di cui all'allegato B tra cui troviamo l'allegato B del DPR tra cui troviamo ristoranti pizzerie trattorie bar e mense che non utilizzano impianti di diffusione sonora o non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali sono esclusi dall'obbligo di presentare qualsiasi documentazione di impatto acustico questo a livello nazionale naturalmente lo studio di carattere ambientale quindi oltre al clima acustico deve considerare anche l'atmosfera cioè occorre anche qua una dimostrazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che sono rispettati i requisiti previsti dallo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e dalle norme che riguardano l'articolo 272 del codice dell'ambiente che riguardano appunto le emissioni in atmosfera però non parliamo non stiamo parlando ovviamente delle emissioni in atmosfera quelle in via ordinaria quelle dell'articolo 269 che è un procedimento autorizzatorio ma è un procedimento sicuramente molto più semplificato e poi il paesaggio quando l'esercizio di somministrazione si insedia o in contesti paesaggistici di particolare pregio oppure quelli che hanno sottoposto un vincolo paesistico ambientale o storico architettonico oppure se si trova in vicinanza di un SIC che è il sito di importanza comunitaria che è definito appunto dall'Unione Europea e infine abbiamo gli aspetti progettuali quindi le componenti progettuali dei seminari sono sicuramente la sicurezza degli impianti e la prevenzione di incendi rifiuti e l'eliminazione delle barriere architettoniche quindi sono tutti elementi che devono entrare in questa relazione da parte di un tecnico abilitato come dicevamo prima e quindi in ossequio diciamo così all'articolo 64,3 del decreto legislativo 59 del 2010 i comuni con i propri atti possono anche inibire il rilascio delle autorizzazioni e le scia quindi non soltanto limitare ma addirittura del tutto inibire la presentazione delle scia e il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazioni chiaramente con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito e vi ricordo che il pubblico interesse perseguito deve essere non soltanto un interesse di rango costituzionale quale indicato nell'articolo sempre nell'articolo 64,3 quindi esigenze di tutela dell'ambiente compreso l'ambiente urbano vivibilità viabilità eccetera ma deve essere ampiamente motivato non basta questo ve lo dico per esperienza sul campo insomma non basta scrivere in una delibera in maniera apodittica in maniera generica e immotivata perché abbiamo rilevato queste esigenze il giudice vuole andare a vedere anche determinate i verbali fatti perizie fonometriche verbali relativi a situazioni di deteriori di malamovida e quant'altro quindi deve essere un'istruttoria veramente molto molto ben architettata ben congegnata perché stiamo parlando del delimitare o addirittura di inibire nei casi più estremi un diritto di rango costituzionale quale è il diritto di libera iniziativa economica quindi si può fare ma chiaramente dando molta enfasi alla parte motivazionale della delibere naturalmente in accordo quindi con l'autorità di pubblica sicurezza quindi con la eventualmente con la questura i comuni possono definire l'arco temporale di validità di queste misure di inibizione o di limitazione all'esercizio possono stabilire qual è la porzione di territorio da sottoporre a limiti in genere si tratta sempre di quella dove dove si concentrano gli assembramenti dei giovani della movida e poi quali caratteristiche devono avere gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali funzioni gli esercizi devono essere inibite quindi non so per esempio vendere il divieto di vendere bevande alcoliche dopo una certa ora e quant'altro infine chiudo con quest'ultima slide per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio la delibera di giunta regionale si limita a stabilire che il diciamola il procedimento deve essere regolato dal comune come come norma di cornice la regione si limita a dire che il termine comunque non può essere superiore a 60 giorni dopodiché dalla data di ricevimento dopodiché le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il diniego e inoltre il il comune deve adottare tutte le altre norme che assicurino la trasparenza e la partecipazione al procedimento quindi naturalmente stiamo parlando di tutti gli istituti tipici della 241 quindi la stiamo parlando della comunicazione di avvio del procedimento della dell'articolo dell'applicazione dell'articolo di cbis quindi della comunicazione del preavviso di rigetto la comunicazione di motivi ostativi nel caso in cui vi sia questa eventualità eccetera eccetera eventuali conferenze di servizio e quant'altro infine prevede la delibera che i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento commerciale e localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione tranne il rispetto della disposizione sul fabbisogno dei parcheggi dell'area di sosta e per quanto riguarda le verifiche di impatto sulla viabilità il motivo è chiaro perché se non mi sposto da se mi muovo all'interno del medesimo addensamento commerciale della medesima localizzazione è chiaro che in questo caso non c'è non c'è nessun problema allora io adesso sono le 11 e 12 qualche minuto alle vostre domande allora allora chi deve effettua un attimo solo allora le vediamo qualche domanda chi effettua il controllo dei requisiti morali in caso di somministrazione del comune o la prefettura ma sicuramente il comune quindi tipicamente il SUAP che può essere il controllo il controllo sulla dei requisiti non soltanto morali ma anche i requisiti professionali quindi tutti i requisiti vengono vengono fatti da parte della vanno fatti da parte del SUAP del comune allora poi dice se la prefettura rileva la mancanza della buona condutta il comune deve o può procedere con il divido di prosecuzione dell'attività considerando che l'articolo 11 TULP sembra lasciare discrezionalità ma in verità non è che ci sia molta discrezionalità è buona norma sempre dare un termine quindi sempre per il principio che vi ho appena letto della partecipazione procedimentale quindi evitare sempre chiusura del divido di prosecuzione dell'attività in caso di scia o revoche dell'autorizzazione in caso di procedimento autorizzatorio non precedute da comunicazioni di motivi ostativi quindi ascoltiamo sempre l'interessato mettiamolo in grado di controredurci in modo da evitare appunto il tipico vizio che si forma in questo caso dell'atto amministrativo che è l'eccesso di potere quando non abbiamo ascoltato il non abbiamo ascoltato il il privato allora un'altra un'altra osservazione del consiglio di stato ha fornito una massima circa la somministrazione assistita nei negozi di genere alimentari ma non essendo fonte normativa quindi se il regolamento comunale pone dei limiti o di vieti al possesso di tavoli e sedie posate eccetera nei vicinati o artigiani prevale il regolamento comunale corretto ma come dire il consiglio di stato intanto non stiamo parlando del tar naturalmente è corretto quello che dice lei nel senso che non è una punta di diritto non è le sezioni unite della cassazione insomma quindi non però è chiaro che davanti a una sentenza del genere che ripeto si basa sulla si basa su una pregressa pronuncia dell'autorità garante della concorrenza del mercato del 2016 che a sua volta dice il Mise ha malinterpretato la norma Bersani il vero legge 223 del 2006 che invece questa cosa non la prevedeva nel 223 del 2006 la legge del vero Bersani non prevedeva l'obbligo di avere stoviglie a perdere per i generi alimentari eccetera non prevedeva come discrimine altro che non fosse il servizio assistito di somministrazione ma per fargliela breve è chiaro che se continuiamo a considerare prevalente il regolamento comunale e quindi a imporre questi obblighi che le pone nel quesito è facile che ci possa essere che ci possa essere questa un ricorso con ampie possibilità uso neofemismo di accoglimento quindi in questi casi lo strumento è disapplicare le parti del regolamento comunale incompatibili con quello che abbiamo letto quindi non c'è bisogno di fare nulla nessun atto nuovo non c'è bisogno di abrogare o scrivere o nulla semplicemente non disapplichiamo per sovra avvenuta in efficacia determinate norme che sono diventate non più coerenti con con l'interpretazione data in maniera così autorevole prima dalla GCM e poi dal consiglio di stato allora no allora abbiamo detto che il requisito professionale è necessario soltanto fino al 2012 era necessario sempre adesso quando la somministrazione è resa nei confronti di una cerchia determinata di persone non occorre più tale requisito quindi non occorre nel caso di di catering e banketing e neanche negli altri casi di buvette e quant'altro allora vediamo altre domande ma la vendita la signora si ma produsse con la vendita senza somministrazione allora nel caso di una signora che produce dolci e prodotti di pasticceria al proprio domicilio per la vendita è necessario che abbia requisiti professionali la signora si limita alla produzione e alla vendita senza somministrazione allora quel problema non è se è somministrazione o se è vendita al comma 6 si applica tutte e due entrambe le fatti specie ricordo che il requisito professionale comunque serve sempre quindi qua abbiamo detto che non serve soltanto se è resa l'attività nei confronti di una cerchia determinata di persone ma se è svolta al pubblico il requisito serve serve assolutamente allora ancora allora questa è una domanda interessante se un'uscita del locale secondaria deve essere tenuta chiusa ai sensi del DM 564 del 92 ma questo fatto confligge con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro quale normativa prevale e allora qua effettivamente il problema si pone perché sicuramente abbiamo detto che l'esercizio deve rispettare requisiti di sorvegliabilità interna ed esterna questo è un tipico caso di sorvegliabilità esterna quindi evidentemente gli organi di vigilanza hanno detto che l'uscita secondaria deve essere tenuta chiusa in questo caso intanto bisogna vedere se questo è compatibile con quello che stabilisce il DM 564 del 92 cioè se questa pronuncia realmente se questa imposizione trova coerenza con quanto previsto nel DM 564 dopodiché è chiaro che la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha dei profili di responsabilità a volte anche penali nei confronti del datore di lavoro quindi è chiaro che il problema si pone forse qui occorrerebbe si potrebbe si potrebbe effettuare una conferenza di servizi anche semplificata per sciogliere il nodo perché è chiaro che il privato prima di acconsentire può incorrere eventualmente in rischi penali insomma magari ci pensa ci pensa due volte quindi forse avere una come dire una sinergia e quindi ascoltare in maniera sinottica gli organi competenti è sicuramente un valore aggiunto allora ancora vediamo un poco per quanto riguarda per quanto riguarda il clima acustico spesso gli esercenti si avvalgono della possibilità di presentare una dichiarazione anziché produrre la relazione prodotta dal tecnico a questo proposito si chiede quanto possa essere regolare e se è responsabilità dell'esercente provvedere a dimostrare in fase di controllo da parte delle forze dell'ordine la relazione acustica qualora venga richiesto allora qua il problema qual è dunque io perciò prima vi ho citato non a caso il 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 dpr il dpr del 227 del 2011 tornando indietro sulla slide perché qua si dice quello che occorre esaminare e valutare il clima acustico quindi la dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle norme vigenti in merito a macchinari o impianti rumorosi traffico e incremento dell'effetto di rumorosità dopodiché che cosa che cosa è successo quindi questo è stato scritto dalla regione Piemonte nel nel 2010 dopodiché l'anno successivo è entrato in vigore questo decreto che vi dicevo il il 227 del 2011 dove intanto si comincia dicendo sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui è l'articolo 8 della legge 447 del 95 le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B e nell'allegato B ci sono tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande a meno che come vi dicevo prima non non svolgano manifestazioni o eventi con altoparlanti musica diffusione sonora strumenti musicali in questo caso si resta ferma dice il comma 1 dell'articolo 4 di questo DPR 227 resta ferma la facoltà di fare ricosto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 e poi dice per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustico comunale è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva senza l'articolo 8 comma 5 quindi per rispondere alla sua domanda il comportamento dell'esercente diciamo così è in questo caso corretto dal punto di vista del corretto dal punto di vista del DPR 227 del 2011 ma contrario ai precetti della delibera della giunta regionale quindi il discorso qual è se lui presenta l'ultima parte del suo quesito non mi convince molto quando lei dice si chiede quanto possa essere regolare se è responsabilità dell'esercente provvedere a dimostrare in fase di controllo la relazione acustica qualora venga richiesta allora se lui fa un'autocertificazione fa un'autocertificazione quella prevista dall'articolo 8,5 la può fare teoricamente anche il anche il privato anche se è chiaro che come fai a dire in via previsionale che non supererai i limiti di decibel previsti dal piano di tonizzazione acustica o dalla legge quadro è chiaro che soltanto un tecnico abilitato può fare queste può fare queste queste dichiarazioni allora se ho una somministrazione con superficie di somministrazione sono uguali a 80 metri quadri devo chiedere la valutazione di impatto di viabilità o si applica soltanto in casi di esercizi superiori allora l'abbiamo scritto proprio qui sulla viabilità il limite è proprio quello degli 80 metri quadri quindi laddove vi siano ampliamenti vedete lo dice questa slide quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 metri o l'ampliamento è superiore a 80 metri occorre presentare il occorre presentare anche la valutazione di impatto di viabilità quindi superiore a 80 metri questo è quello che dice la norma poi è chiaro che a quel punto se lui dichiara proprio 80 andare a fare come dire una misurazione con il laser e andare a verificare se quegli 80 non sono per caso 81-90 perché voi a volte sapete come funziona un po' come il discorso del vicinato con i 250 metri quadrati che poi vai a scoprire che sono non solo 250 ma sono 280 per dire quindi questo è questo è quanto allora vediamo qualche altra qualche altra domanda allora con quale procedura il comune riconosce le zone sottoposte a tutela in cui vige il regime dell'autorizzazione allora il comune deve farlo con deve farlo sicuramente con delibera di consiglio comunale questo è il consiglio che do perché è un atto come dire di pianificazione non soltanto commerciale annonaria come si diceva una volta ma è un atto di urbanistica commerciale se mi passate il termine quindi sicuramente occorre una delibera di consiglio comunale da questo punto di vista vi ricordo che c'è un'altra procedura prevista dall'articolo 2 del decreto SCIA 2 a cui facevo cenno poc'anzi nell'esposizione che per tutte le attività previste nell'allegato A mentre l'articolo 64 del 59 prevede per le somministrazioni la possibilità fin dal 2010 di assoggettare porzioni di territorio comunale a regime autorizzatorio in caso di aree di pregio e quant'altro questa possibilità per i comuni è stata esplosa diciamo così dal legislatore nel 2016 per tutte le attività economiche previste dalla dall'allegato A della tabella legata al decreto SCIA 2 al 222 del 2016 quindi per tutte le attività economiche commerciali eccetera è possibile porre in essere una procedura che prevede un accordo con la regione sentito il soprintendente quindi in quel caso c'è un'altra procedura dove non soltanto per la somministrazione ma per qualunque attività economica potete appunto adottare sempre naturalmente con atto finale una delibera di consiglio comunale una zonizzazione passate in questo termine del territorio comunale non soltanto con riferimento alla somministrazione ma a qualunque altra attività economica ripeto che sia considerata nella tabella allegata al 222 allora un'altra domanda procedimento autorizzatorio 60 giorni per il lascio autorizzazione non è in contrasto con il procedimento ordinario del SUAP no il procedimento del SUAP non è non è assolutamente un tabù lei si riferisce naturalmente all'articolo 7 del DPR 160 anche lì a ben vedere soprattutto dove non ci sono non vi era con l'obbligo di fare conferenza ai servizi anche lì c'è l'obbligo di terminare il procedimento entro 60 giorni 30 giorni per la fase vi ricordate di preistruttoria diciamo così di istruttoria della pratica di completezza formale della pratica e poi 30 giorni per la fase decisoria quindi è un termine di 60 giorni termini che aumentano naturalmente nel caso in cui devo devo convocare la conferenza ai servizi ma laddove vi sia un termine regionale più breve sicuramente problemi non ce ne sono mai quindi questo è previsto sia da tutte le norme generali è previsto dal 241 ma è previsto anche dal DPR 160 del 2010 per il procedimento autorizzatore di SUAP dove si prevede proprio esplicitamente se vi sono termini regionali più brevi naturalmente prevalgono questi perché l'interesse è sempre quello del privato io Stefania Sandra Francesca avrei concluso manca solo un minuto quindi vi ringrazio va bene grazie si manca solo un minuto le domande le quali non è stato possibile rispondere come al solito saranno pubblicate sulla pagina web dell'evento ringrazio tutti Riccardo Roccasava in particolare un saluto a tutti i partecipanti buona Pasqua a tutti grazie buona Pasqua a tutti arrivederci buona Pasqua Grazie.